Sono state sicuramente due bellissime regate contro Ineos, la prima è stata più bella per noi ovviamente perché abbiamo vinto, abbiamo fatto una bellissima partenza, c'è stato un paio di penalità, noi siamo partiti fuori, poi loro hanno avuto una penalità e da lì siamo riusciti a rimanere davanti e rispondere ai loro attacchi. La seconda regata invece il vento è aumentato leggermente, intorno ai 13 nodi, loro hanno avuto la meglio nel pre-partenza e diciamo che inizialmente il primo shift era a destra fuori dalla linea, noi non siamo riusciti a difendere la parte destra, loro abbiamo fatto uno switch, loro poi ne hanno fatto un altro, ci hanno spinto e sono partiti sopravventi a noi. Da lì è stato ovviamente, loro hanno preso il primo salto, il primo guadagno e poi diciamo con un campo con poche, come chiamiamo noi, passing lane o con poche possibilità di sorpasso è difficile superare. Siamo riusciti a risaltarli addosso in terza bolina e a riguadagnare tanto, ma non la sufficienza per poterli passare. Comunque oggi torniamo a casa con 1 a 1, il punteggio è 5 a 1 per noi, domani abbiamo una situazione diversa del vento, una si brisda a nord intorno ai 10 nodi, come sempre analizzeremo le regate di oggi, cosa abbiamo fatto bene, cosa abbiamo fatto male e domani scenderemo in mare sempre più forti.